Ciao a tutti, sono Roger Argentina e oggi finiamo su Roger Survival. Io ho registrato, prima ho registrato e ho continuato avanti. Dopo mi sono accorto che non stavo registrando. Allora vi faccio vedere quello che ho fatto prima. Non sentirete la musica di Minecraft. Cos'è Kulama che vedrete inscritto qua. Non so perché mi senti sottofondo. Spero che questo qua non disturbi. A me voglio vedere tutto il video. Qua vedrete la mia faccia. E allora. Prima di cercare il film. Ho tappato qua il buco che mi ha detto qui per esploso. Ho fatto qua queste versioni. Ho trovato un po' di alberi. Ho finito. Ho finito. Ho utilizzato queste cose del test. Ho trovato il cibo. Ho fatto vedere come si fa il lano di colore. Ho fatto vedere come si fa il lano di colore. Sono andato a prendere un po' di legna. Non si fa niente. Allora. Oggi non voglio continuare davanti per la casa. Facciamoci un asia. Andiamo in miniera. Ho scritto qua vicino. Ora e non possiamo seguire. E' un asia. Ok. E' un asia. Sto usando questi cosiddetti come potete vedere dal schermo lì sopra, come non ho un microfono Sto usando queste cosiddetti, speriamo che si sienta bene Sì, intanto lo faccio tutti qui Aspetta un attimo Scusate ragazzi per la pausa perchè mi stavano chiamando per telefono Allora devo fare una pausa E' bello sicuramente che posso fare anche le pause Nell'altro quello che succedeva succedeva e registravo comunque Allora andiamo in nera Qua durante il cordonologico non registravo questo E' bello sicuramente che non ho fatto capito che non ho fatto capito Perchè non ho fatto capito Adesso inizierò a fare i giochi horror Potete vedere di su O su potete vedere come mi spavento Sento uno zombie? Voi non potete sentire perchè non potete Io ragazzi ho in google più Se voi avete google più E mi trovate a me come roggia argentina Però cercatemi Beh non sono molto pratico di google più Allora fatemi amico Adesso che faccio un po' inizierò a fare blog su google più Allora se volete partecipare Viete come amico Grazie Grazie Questo video dirà solo 10 minuti Adesso non ho fatto che non ho fatto Ma non ho fatto parlare con il palco Un po' inizierò E io ho fatto quanto dura Non ho fatto un po' inizierò Perchè Un po' inizierò Lo scorso Lo scorso Ripeto fatto Gta San Andreas Spero che vi sia piaciuto Non lo sapevo come registrare su PCOS 2 Però ho provato a registrare con il cellulare Spero che sia uscito bene Spero che vi sia piaciuto Se volete fare Se volete fare Il PCOS 2 Spero che vi sia piaciuto 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 Sperate c'è un po' di rani, un certo di rani dai zombie, usciamo fuori, certo il fine di notte, è vero questo programma perchè non mi lagga, quando ci siamo con l'altro mi lagga un sacco non mi lagga, non mi lagga, ho scusato, non mi lagga, non mi lagga, ho scusato, non mi lagga, non mi lagga, ne s'ilgo de no a press, non mi lagga, ho scusato, Io vedo un po' questa parte qua perchè non mi piace quel buio Io vedo un video